Signora, da quanto tempo succede? No! Fermati, ti prego! Da quanto tempo? Non esitare, non aspettare. Una violenza va denunciata. Subito. Si sta avvicinando il 25 di novembre una data particolare per ricordare, anche occasione per parlare e sensibilizzare su un tema importantissimo. Ricordiamo quale e ricordiamo appunto che tipo di progetto state portando avanti. Eh beh, sì, il 25 novembre è una giornata internazionale, quindi anche il nostro territorio concorre a ricordare che la violenza va combattuta e va ostacolata. Per quello che riguarda l'operato della formazione musicale Ciucadù Acustico, meglio interpretata nelle volontà di Tiziana Stefanelli e nel brano Io meno te, proprio rivolto al contrasto della violenza di genere, abbiamo realizzato non solo il videoclip del brano Io meno te, ma anche uno spot di 30 secondi, che è La violenza va denunciata. È stato un lavoro capillare, perché questo lavoro è stato eseguito a quattro mani, se non a sei. In effetti sono intervenuti per collaborazione e autorizzazione il Ministero dell'Interno e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per cui abbiamo avuto il privilegio e l'occasione di poter girare nel commissariato e nel Comando dei Carabinieri di Fano. Questo significa la grande partecipazione delle forze dell'ordine, non solo 24 ore al giorno per accogliere le donne che vogliono denunciare un crimine, ma anche quando si devono esporre a livello di far comprendere, far sapere a tutti quanti che loro esistono e che loro sono presenti. Noi dal nostro piccolo abbiamo semplicemente messo a disposizione quello che avevamo, la voglia di contribuire alla causa femminile, anche attraverso un testimonial, l'attore Edoardo Siravo, che ha sposato questa causa, essendo concorde che le donne non devono tacere, ma devono andare a denunciare. È un grande atto di coraggio, un atto doloroso, ma un atto da compiere e da fare.